Il mio palazzo è molto grande per essere a Cagliari, che è una città medio piccola, ha otto piani, ci sono mi pare 47 famiglie, è un microcosmo, ne ho già parlato in un mio episodio precedente dei tre minuti grezzi, però ieri mi sono successe due cose nel palazzo, niente di che, sono le piccole cose che mi piace guardare, la vita che mi piace osservare. La prima è che, mentre uscivo, sul portone c'era la signora, non mi ricordo se fosse del secondo o del primo piano, che è una signora anziana che ultimamente viene portata in giro su una carrozzina dalla badante rumena, un signorone bello, solito, che prende la sia all'hotel e la porta su e giù per le scale che portano in un ascensore. La signora sulla sia a rotelle era lì che aspettava che la badante finisse di parlare con un'altra inquilina del palazzo che diceva, ah ma allora non mi ricordo se è giovedì o venerdì, compie cento anni, ah che bello, quindi avremo prestissimo una centenaria nel palazzo. Questa signora che io la vedo spesso anche nel parco, è bella arzilla, se la cava bene, per essere una centenaria se la cava benissimo. L'altra cosa è, mentre compravo una cosa al volo al supermercato che c'è proprio davanti a casa, davanti a me alla cassa ho visto una signora che anche lei abita nel palazzo, una signora molto distinta, molto caruccia, sempre ben tenuta, molto curata. Mentre la signora pagava ho sentito che il cassiere diceva che l'importo era 10 euro esatte. La signora, guardata dentro la borsa, si è resa conto di non avere il portamonete con sé, è capitato anche a me diverse volte. In quel caso, uff, che rottura, lasci la spesa, attraversi la strada, vai, sali a casa, prendi solo il litro, eccetera. Allora io, visto che sapevo, non ho quasi mai soldi incontanti nel portamonete, ma oggi sapevo di avere 10 euro, perché li avevo visti, e visto che ero subito dopo la signora, le ho offerte, signora se vuole glielo pago io, non c'è problema, poi tanto abitiamo nello stesso palazzo, saliamo insieme e me li restituisce. La signora è rimasta un po' così, però poi ha accettato e mi ha ringraziato, molto carina, e allora visto che facevamo la strada insieme, perché abitiamo nello stesso palazzo, mi sono anche offerte di portare sulla spesa. E poi, guardi, l'aspetto fuori dalla casa, fuori dalla porta, perché non volevo essere invadente, perché so che è una signora di una certa età. Poi mi avevate ad entrare in casa e c'è questa casa, bellissima casa, piena di bei mobili. Insomma, è stata una cosa divertente, una cosa bella, sono stata contenta di aver potuto fare un piacere a questa signora e di aver scoperto di avere una centenaria nel palazzo.